Ma ti devo pagare veramente duemila anime, ma stai stronzo Non sei quanto, non sei quanto Però sei una troia, cioè, sposta per cosa? Vabbè, vaffanculo Beccati sti duemila anime D'amazzarei molto volentieri se accadessi Non vai a cacare, vai pure No, impotente dei miei miracoli ti spaccherà un giorno Ti lancerà un full mineralmente potente Che morirai brutalmente Grazie a tutti Allora, siamo arrivati qui Non d'archezzato Finalmente un'area nuova Questa è vivo? E' vivo Non più Pallo Perché non mi faccio? Pallo, ammazzo Bene Un'altra area stretta, eh Non posso usare i miei spadoni Occhio che c'è un burrone sulla sinistra E ho visto E anche sulla destra Sì, ma signori, lo stai vedendo che vi dico quasi quasi che accendo una torcia Che cosa stai colpendo? Che cazzo... che cos'era? Lo scopriremo presto Una farfalla che avvelena Come mi ha avvelenato appunto Eh, vedo che stai morendo lentamente Che cazzo... Chica tanto lentamente Che cazzo... che ti fa avvelenare dalle farfalle sceme Lo scopriamo qui Aiutami Vabbè Di sopra si sale Guarda, andiamo All'arena Comunque i funghi non sono letali Nel senso... C'è una strada dove andrei giù senza gravare Ok Buona stessa Allora Leggi messaggio Fa attenzione imboscata qui a sinistra Scudo Tiratore più avanti Darker Tocca a te Salve Quanta gente c'è Cazzo ci muoio Aspetta Ci vuole attacchi a distanza Chissà se riesco a targettarlo Certo ma come fai a fare il dual wielding su sto gioco? Signore mi credo che avrò bisogno di una torcia Ce l'hai? Puggiata Signore qua c'è una porta VAIA VAIA Porca 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 Vaffanculo Un infarto Mi segue Mi segue E stai da Ok Grazie Grazie Guarda Guarda Zaffo là sotto sta facendo una strage Wey Non volevo cadere Merda Sì ma qua sopra si continua a dilacciare un'altra porta No qui è chiuso Ah no è chiuso Va bene Va bene Di Zaffo Non ne sentiremo più parlare Ma ora penso che ci butteremo pure no Qua c'è una scala che si scende Il nemico piava Ah guarda da questo stronzo messo lì Dai aspetta aspetta Dai vai tu Dai subito sulla destra Scudo avanti mi raccomando Ottimo Di sotto c'è una scala che porta giù Si può risalire quindi scendo Sperando di non Sì ma qui ci sarà un'anima Sennò perchè mettere un mostro senza un'anima Eh però c'è un'anima Zaffo è tornato Zaffo è tornato Come fa Vabbè Vabbè si può risalire quindi Lì io avevo visto un occhio Zaffo è morto Zaffo è morto Che imbecille No No Era vivo un attimo fa Come è possibile Vabbè se si può risalire Guarda quante robe ci sono là sotto Zaffo ha ammazzato tutti Direi di poterle Sì ma dopo essere risalito è morto Non è sicuro Vabbè senti io li vado a prendere Poi Cioè cos'è roba da prigioniero Bisogna evitare Un buco della morte Che eviterei A mani basse E qui cosa c'è Pugnale da bandito Tu hai preferito Ma si Ha fatto una rima lui Gambai da furfante E qua sembra che ci sia Tipo una specie di short Gatto Un passaggio Una pietra Ma forse sono la mia impressione E di qui c'è una scala Che risale Esatto Come immaginavo Ok tutti morti Grazie Zaffo C'è stato utilissimo Ci ricorderemo di te Muschiavitoso Gemma vitale Ma forse ho capito come è morto Zaffo No Zaffo effettivamente è arrivato di accanto a me Dite che buttarsi da qua su è sicuro secondo voi? Mica tanto ma poi Ma dove? Ma non puoi andare avanti Vedo dalle finestre Prova salto Prova salto In breve Urrà per coraggio Un salto con la fede Fate il simbolo delle aprile di Assassin's Creed Uuuuh C'è Assassin's Creed Ma non mi è venuto un impatto ragazzi Per un perro non sono morto Ma da dove? Ah ok Bisogna di fare il giro Ok Bene bene C'è quell'alba Non l'amica vista l'alba E' più che un'alba Mi sembra tipo una luce spettrale C'è un'alba inquietante Ragazzi guardate il panorama C'è fighissimo Il dettaglio e l'ambientazione E' una cosa fantastica Certe volte basta fermarci No che bella questa Perché cosa hai fatto? Ho fatto l'emotico Ed è scivolato Va bene Vengo a riprendervi al falò Ho capito Ho già capito Va bene Allora Li abbiamo recuperati entrambi Sperando che non mi cadano di nuovo Andavamo a scendere queste scale Ah Guardate un po' Boom Possiamo tornare indietro più velocemente E c'è pure un falò Ottimo Ma continuiamo ad avanzare Continuiamo ad avanzare Continuiamo ad avanzare Allora E' in una luce E' anche un gioco Portatore della Fiat Si Ma sta zona è Girantissima Bella No pensavo l'avessi buttato giù E' caduto E' caduto C'è provato Ha fatto un'animazione Alla voglia del coyote Ha attiato un colpo Perché ha visto che di sotto c'era il vuoto Beleno 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 Farfalle stronze E' quelli sono dei falcetti Io ammazzare le farfalle però Scusate un attimo Dai come le ammazzi tu Ok Si mi Per le farfalle si usa il fuoco Oh Giorno 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 Ah Inza di questa Si Perfetto Fuoco Fulmine oscurità contro uno Vince Buschio Velenoso E' effettivamente questo boschetto è il cacciatore Non l'avrei mai detto Dark A dire il vero Assolutamente No Chiamatevi Speedway Se che avete capito con chi sono le prede Ha un oggetto in una stanza nel genere con un tetto bucato certo Mazza che ho dato a grande anima che sono da vignore Non c'è la trance nessuna trappola Sono io che penso troppo Sei troppo prevenuto Se è in parte Ah c'è un'altra farfalla là sopra Marta c'è un altro tizio Molti tizi Con Molti tizi Questo significa una cosa sola Chi non mi ha preso Si mi ha fatto due affondi e io ero in mezzo Io vorrei accogliere l'oggetto sotto la farfalla Prepa Ah ma preso Grazie Fermavità L'appola arancione piccola E che è Cos'è una lappola voi che siete esperti Beh c'è scritta nella descrizione Dopo me l'anguardo E' fatto che le foreste le fanno bene eh C'è tu ci perdi dentro Non sai Due zombie Facciamo tre E' c'è qualcuno che lancia le cose qua Qui c'è qualcuno che è morto come Ma che mi curerei Ma eccolo lì me lo aspettavo Qualcosa del genere Ora è Tiriamo una leva a caso che abbiamo appena trovato Ma perché non so Cosa farà mai Fai attenzione a solo Cos'è questo LOL Che fegata Il ponte gigante che cade giù Che sei un meccanismo nanico antico questo Lì è il falò dei tre troll Quali troll? Troll che ci aspettano per cucinare Davvero Ha chiuso Ha chiuso Bastare Chi ha richiesto più avanti Ah volete un uomo arrosto ragazzi Qualcuno vuoi apportare il marshmallow E' già mangiato Vabbè Vado io vado io Eh vai tu che meglio Vedo tante bacchi di sangue ma tante Oh no oh no Ah no Su scheletto Che cazzo c'è un'urna che C'era un'urna maledetta che mi stava mettendo qualcosa Maledizione Si non lo so Allora adesso vai avanti tu Si perché devo andare avanti io Sono bruciosi questi scheletri Mi chiama perché non mi sono portato dietro una torcia Guarda guarda un'altra Guarda guarda un'altra Guarda guarda un'altra Avete visto Vabbè tipo una sorta di maledizione Devi distruggere in base Tuttavia più tempo si è esposto più diventi vuoto Ah E se se vengo Se divento vuoto completamente muoio Tentiamo vuoto nel senso Che perdi gli HP come se muoissi Povero pirla C'è la parete Che fai? E' effettivamente però non possiamo Ah guarda lo uccidiamo lo stesso La fa una magia tipo Passa attraverso le spalle Non arrenderti Scheletro Un tizio ha attivato la levata là dietro Ho visto il fantasma Quindi ci deve essere un modo per arrivarci da un'altra parte E' accendendo la torcia Aspetta noi siamo arrivati da qui Ma di qua si va appunto Ho visto che c'è un altro sentiero Piano su questi sentieri piccoli Piano Testa a sinistra Anche direi a sinistra per ora Ma che quante cacchio di strade ci sono? Eh Vediamo poi sono morti questi Vabbè è morto buttandosi giù penso Vabbè guarda la nostra guida Aspetta zappolo non mi spinge Ho attiato una raggata allucinante ragazzi Ma siamo tornati qui di nuovo Allora È un labirinto Questa Vabbè non fa nulla pericina Vai Vai Zafo cammina Aspetta Sto fantasma ancora qualche combattio Allora forse si avanza qui sulla sinistra Insetto più avanti Ma fai attenzione a imboscata Insetto? Inboscata Sento dei rumori Non è che mi casca addosso una pietra gigante tipo A proposito aspetta prima di avanzare Vi devo cambiare scimitarra Perché la mia si sta rompendo Qui c'è un oggetto C'è un oggetto Continuo a sentire dei rumori Non ci sono farfagli Che cazzo? Come una feccia mi ha fatto un sacco di danno con lo stronzo Coltello da lancio avvelenato Bene Insomma Tutto questa fatica per un coltello? spesso avanti qualcuno vuole provare il salto della fede da dentro qualcuno di voi si sente spiderman è morto vai dark c'era fatta e ce la farò anche io spero vabbè guarda se questa sasso si apre oh merda siamo stati invasi ragazzi dalla spietata lorena forse è meglio metterci in una zona migliore beh qui siamo abbastanza in alto ma se tassi cc ma signori muoviamoci le piatte che cazzo sei volerà brutalmente ma se ha scelto il gruppo sbagliato dopo non erano le pc è un npc evidente non è una spietata che cacchio può essere qui c'è una porta sotto la cascata pure a non mirlo ah lì c'è una nebbia di una zona in cui non possiamo andare sotto la cascata madonna ragazzi mi stanno si stanno spaccando i timpani allontaniamoci da questa cascata mi piace sta mappa aspetta questo che ho già visto è pieno di gente occhio c'è qui un mago è un po' più lenta sta magia l'ho preso un steso ok penso che questa qui apro la strada combustione permette di aprire lo short cut per arrivarci in fretta infatti era palese si la prossima volta non dovremo fare tutto il giro bene anche se dovrei provare a saltare c'è un oggetto che varrà la pena chissà bastone e la lucertola è un'arma cosa è una spada nooo lo sapevo ciao ciao sono morto per una merda bastoncino ci ha attaccato sempre alla lucertola va bene la magia la magia la magia la magia ferro nostro